Quell'identità artistica, ragazzi, non la trovate in cameretta, la trovate con il confronto, la trovate con le bastonate, quindi anche dicendo, ok, cosa significa essere artisti? Mi sembrava bella l'idea di portarvi un punto di vista su quello che è il valore, la parola ormai, a mio modesto parere, abusata, a cui poi si aggiunge artista emergente, artista big, mainstream, ok, poi in tutte le sue catalogazioni e categorie, e conosco bene il significato di questa parola perché in primis posso dire di essere stato per un lungo periodo o di averci creduto di essere un artista, ok? In questo caso, per quel che riguarda, lo strumento che mi ha fatto innamorare a questo mondo e che mi ha portato e mi ha trasportato all'interno di questo settore nelle sue poi varie sfaccettature, che è la batteria, no? Quindi so cosa significa, so cosa si prova a dover lottare, io uso la parola lottare perché la musica non vi regalerà mai niente, ragazzi, cioè è veramente, forse è un settore di cui sono innamorato proprio anche per via della sua meritocraticità, cioè nel senso che non esiste il raccomandato in musica, cioè se tu canti di merda, se tu suoni di merda, se tu puoi essere il figlio adottivo di Mick Jagger, che non gliene frega niente a nessuno perché quando sei sul palco, quando sei all'interno di una performance o quando devi rispondere alle richieste magari di un produttore o di un produttore artistico, cosa che magari, non so se ad alcuni di voi è capitato, no? Di essere protestati, di avere qualcuno dall'altra parte del vetro che vi dice in questo pezzo non ci piace quello che hai fatto, quindi personalmente non ti richiameremo più, ok? Tutte cose che io posso dire che mi sono successe, no? Mi sono capitate, sono quelle che mi hanno fatto anche crescere tanto. Quindi, perché io oggi voglio parlarvi della parola dell'essere artisti? Perché noi come MB, uno dei motivi che in primis mi ha spinto ad aprire questo canale è stato proprio quello di dire io voglio aiutare più persone possibili a farsi largo in questo settore, in primis per dare spazio al messaggio creativo che ogni essere umano ha, perché ognuno di voi, che voi lo vogliate, no? Mi sto toccando l'occhio perché mi prude, ha un messaggio creativo, ok? I ragazzi con cui ci siamo confrontati, soprattutto gli artisti, hanno un messaggio, talvolta anche molto forte. La loro fatica però qual è? È quella di comunicarlo, è quella di costruire un'esperienza che possa forgiare la potenza di quel messaggio perché se noi abbiamo un messaggio forte ma non sappiamo, ripeto, performarlo, non sappiamo tirarlo fuori, abbiamo magari problemi e siamo vittima della sindrome dell'impostore quindi pensiamo di non essere pronti per esporci eccetera, non sappiamo esporci, cioè quel messaggio se ne finisce nel cestino purtroppo non arriva alle persone ed è un grande peccato questo perché? Perché tanti di voi abbiamo notato avere messaggi forti da mandare avere competenze magari costruite e maturate nel tempo ma non avere gli strumenti per capire come dare loro una forma concreta e una finalità economica, ok? Quindi MB ha voluto fortemente combattere la povertà musicale e ripeto la povertà non si intende solo la povertà economica ma anche proprio la povertà mentale però partendo dal presupposto che ci devono essere delle competenze e su questo io parlo per me ho fatto un errore, ho fatto un errore di sottovalutare la situazione quindi noi siamo sempre stati primi a dire se non hai competenze noi non possiamo aiutarti ma non abbiamo mai definito, ok? Che cosa significa davvero competenza quando possiamo definire una competenza solida? Interpretare una competenza come forte fondamento di un possibile potenziale percorso in questo caso anche strategico, ok? E questo lo fa l'esperienza perché le ore di studio sono sicuramente una parte si dice, ci sono ricerche che parlano delle famose 10.000 ore quindi se una persona trascorre 10.000 ore all'interno di uno specifico settore in uno specifico segmento verticale specifico qualsiasi esso sia io divento un esperto di quella settorialità e io questo diciamo per quello che riguarda la mia esperienza ho notato essere un pattern molto reale cioè difficile dire di essere degli esperti se non hai passato almeno un tot di anni della tua vita veramente a suonare sempre a esibirti sempre, a promuoverti sempre, a esporti sempre, a metterti in condizioni che ti mettevano e che ti mettono un po' con l'ansia, no? E quindi col dire mi devo studiare un repertorio in due giorni e partire per un tour di due settimane oppure devo fare una sostituzione con persone che non ho mai incontrato nella vita e con cui non ho mai suonato quindi non so cosa succederà di quella serata e mi devo far trovare preparato cioè tutta una serie di aspetti che però se li guardiamo sono aspetti esperienziali sono aspetti che dove il solo studio non basta cioè io posso essere il miglior batterista nella mia cameretta ma poi devo essere in grado di traslare quelli che sono quelle competenze che io acquisisco anche magari in modo solitario mettendo alla disposizione di un collettivo mettendo alla disposizione di chi ne ha bisogno, ok? che poi chi ne ha bisogno per il caso di un musicista sia l'artista, il produttore, eccetera o magari nel caso dell'artista il pubblico questo è poi una conseguenza, no? E noi abbiamo proprio notato che tanti sopravvalutano le proprie competenze e capacità ma non è che, io direi anche qua, non è che le sopravvalutano, non hanno proprio un metodo di paragone cioè cosa vuol dire? che ad esempio se tu non ti trovi in una sala con magari un musicista o delle persone che hanno almeno dieci anni più, hanno più esperienza di te tu non puoi avere un termine di paragone se tu ti metti, cioè un termine, occhio, un termine di paragone non si intende la competizione si intende dire, ok, ho qualcuno che in base alla propria esperienza magari mi può dire, guarda che qui devi migliorare qui e qui devi migliorare là io lo dico sempre, anzi forse non l'ho mai detto il vero step che io ho fatto dal punto di vista, per esempio, del mondo di quello che è le produzioni, il recording e tutto quello che riguarda la parte artistica del mondo delle produzioni l'ho fatto stando in studio con Roberto ma cagno, ok, sei Grammy Award, ma non lo dico per fare il fenomeno lo dico perché lui era quello che mi diceva, guarda che qui se queste sono le esigenze tu devi rispondere in questo modo come hai risposto in questa situazione con il tuo strumento o con quello che dovevi fare non va bene perché vedi che avere qualcuno che ci possa guidare in questo percorso esperienziale e questo oggi manca, manca perché? manca perché sicuramente è cambiato il modo di fruire la musica manca perché è cambiato il rapporto che l'artista ha con il pubblico è cambiata l'attenzione del pubblico cioè voi pensate che oggi si combatte, ok? cioè c'è la zombificazione, no? dello swipare, no? c'è tutte queste cose qua quindi cambiando la modalità di fruizione cambiando il mercato, cambiando il mondo cambia anche la percezione che si ha di quelle che sono le proprie competenze quindi tanti sopravvalutano le proprie competenze e al contrario il fatto di mettersi in gioco attraverso magari delle esperienze che sono esperienze concrete, reali di qualcuno che dove vi trovate con delle persone con dei professionisti in una stanza con delle persone che vi ascoltano con delle persone che ascoltano la performance ma se dicono no, guarda che questo scusate, sono un po', ahimè un po' malandato questo è quello su cui devi lavorare o su cui puoi lavorare è un processo vi porto l'esempio concreto per esempio delle live session una persona potrebbe dire ma perché se avete lavorato l'anno scorso sulla produzione delle P di Velenox artista ovviamente con cui, che magari alcuni di voi hanno visto hanno conosciuto perché allora poi nella live session c'è stato Luca che è un altro artista e non Velenox che aveva già del materiale su cui era già stato fatto del lavoro vi porto un esempio perché e questa è una cosa che non ho mai detto a nessuno quindi sicuramente se Velenox qualcuno la vedrà avrà modo di vedere perché quando è stata fatta la masterclass con il coach ritmico Valentino e con la vocal coach Laura io ho proprio notato che a Velenox gli mancavano degli aspetti che non l'avrebbero fatto essere potenzialmente pronto per una situazione live perché gli mancava un training training che ovviamente farà prima poi di fare un'esperienza live come quella che ha fatto Luca Luca invece paradossalmente gli mancavano degli altri aspetti quindi non aveva in quel contesto è emerso che aveva proprio fatica nella gestione del respiro ok nella propria gestione vocale intesa proprio come tecnica ma è emerso anche che aveva degli altri pregi no? e lavorando sui difetti quindi lavorando su tutti degli aspetti tecnici che io non entro nei dettagli perché non sono un vocal coach facendo questo percorso in questo caso con Laura è arrivato ok e ha colmato quel gap che gli ha permesso di fare una performance che voi vedrete prossimamente è nuda e cruda cioè quello che sentirete nelle MBI live session e questo io ci tengo a sottolinearlo perché per me è il vero valore ascolterete esattamente quello che è successo quindi ci sarà la nota stonata ci sarà Enrico che si dimentica di fare una nota in un bridge c'è Valentino che magari in un punto non ha centrato il timing in modo molto preciso c'è Luca che stona in quel punto bene sentirete quella che è la realtà dei fatti perché questo deve passare a mio parere se vogliamo essere dei formatori eccellenti dobbiamo dobbiamo farvi percepire la realtà farvi percepire la verità no? che la guerra cambia l'uomo in ogni caso resta perso perde il resto ma dall'incipito perché la crisi che riaggiusta da un problema più profondo di una pelle con dei limiti che anche l'anima i suoi limiti perché oggi è molto facile camuffarsi ok? tanto c'è il pitch correction ok? se sbagliamo mettiamo tutto in griglia facciamo tutte quelle cose che sono dei processi tecnici che sono arrivati alla ricerca di una perfezione che non è umana motivo per cui ancora oggi tantissime delle cose che tuttora vendono tuttora funzionano eccetera eccetera guarda caso hanno una componente umana molto marcata hanno una componente artistica molto forte hanno una un'identità artistica chiara quell'identità artistica ragazzi non la trovate in cameretta la trovate con il confronto la trovate con le bastonate quindi anche dicendo ok cacchio ho fatto una performance de merda porca vacca qua può essere che magari non mi chiama più nessuno la trovate con un confronto con un pubblico e attenzione che la parola pubblico non significa necessariamente la piazza significa anche qualcuno dall'altra parte del vetro che si aspetta una performance e si aspetta un risultato e se tu non sei in grado di portare quella performance capirai quali sono i punti su cui devi andare a lavorare faccio sempre un altro esempio bello studiare il gym chapin dal punto di vista jazzistico e studiarti il jazz waltz in tre quarti quando poi ti trovi con un quartetto a suonare un tre quarti ti accorgi di tutta una serie di cose che in fase di studio non puoi vedere quindi cacchio io ho studiato una roba ma l'ho studiato una dinamica troppo alta quindi se sono in una situazione dove all'interno del mio quartetto il contrabassista non è microfonato porca vacca devo fare attenzione devo fare un federing migliore devo tenere una dinamica cioè quelle sono tutti aspetti che tu costruisci con l'esperienza quindi io vi invito veramente a ragionare sulla vostra esperienza sul come fare esperienza sul come costruirvi un percorso che vi possa portare all'eccellenza attraverso l'esperienza perché solo così riuscirete a trovare quel ponte che vi porterà poi a poter generare un'economia perché sapete generare valore oltre a questo ovviamente io spero che tutto questo vi sia siano delle riflessioni che vi possono esservi di aiuto e vi ricordo che alla fine del mese il 25 saremo da nebula a bollate e abbiamo fatto proprio un evento che in questo caso è proprio dedicato a il valore i soldi ok a cosa significa generare valore in questo mercato come fare in modo veramente scientifico a capire come costruire quei presupposti e come capire determinati meccanismi e movimenti perché come dicevo in uno scorso video il denaro è un mezzo ma se noi non capiamo come funziona il mezzo come possiamo pensare di poter raggiungere quel risultato cioè un po' come dire io voglio correre al campionato di rally ma poi non ci vado con la macchina formula 1 no devo capire qual è il mezzo con cui io posso andare a gareggiare come lo devo preparare lo devo conoscere quali sono le insidie come si muove perché devo prepararmi in un certo modo perché si muove in un certo modo perché ho bisogno di costruirmi delle competenze di un certo tipo quali sono le competenze che mi possono portare a quel tipo di risultato e tutto questo è legato ovviamente al tema del denaro che è un tema su cui secondo me si parla purtroppo in questo settore troppo poco e quei pochi che lo fanno lo fanno molto male perché lo fanno molto male perché si capisce lontano o meglio che non vivono il settore musicale vero non vivono la realtà di un settore quindi vi invito ad andare a curiosare il link in descrizione non so se potrete scaricare direttamente il programma o iscrivervi alla lista d'attesa perché non so quando usciranno questi video io vi ringrazio molto e vi auguro una serena giornata arrivederci a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.